Una nuova birra dedicata alle donne che verrà presentata durante un evento speciale, come nasce quest'idea? L'idea nasce da tre realtà, birrificio artigianale Dulac, l'associazione Le Donne della Birra, un'associazione a livello nazionale che si occupa della promozione della figura femminile all'interno del mondo birraio e l'associazione Telefono Donna Lecco, che sul territorio si occupa di ricevere le richieste di aiuto da parte delle donne che subiscono maltrittamento, violenza o stalking. Il progetto è il progetto Insem, che sarà anche il nome di questa nuova birra, che verrà prodotta con cotta pubblica proprio sabato 5 marzo. Questa birra è dedicata alle donne e parte del ricavato verrà devoluto appunto all'associazione Telefono Donna Lecco. Vogliamo collaborare per sostenere insomma i loro obiettivi come associazione. Come sarà questa nuova birra? Questa nuova birra ve la racconteremo proprio il 5 marzo, qui in birraificio, in occasione della cotta pubblica dove il birraio realizzerà questa birra e spiegherà il processo che avverrà. Possiamo solo svelarvi un ingrediente, che è l'ingrediente particolare e che aiuterà a caratterizzarla, che sarà l'utilizzo dei fiori di bisco. Poi per il resto vi aspettiamo il 5 marzo.